Una scena, un colpo di teatro e la tradizione può sopravvivere. L'artigianato è un patrimonio incommensurabile della cultura popolare, che rischia però di perdersi in un mondo fatto di prodotti in serie. E allora, se l'artigiano diventa attore e il suo lavoro racconto, può essere tramandato e non perso. Si chiama Artefatti ed è il progetto con il quale la provincia di Bari, insieme ai comuni di Turi e Corato, cerca di valorizzare 12 produzioni legate alla tipicità locale. La lavorazione del ferro, il ricamo, il taglio a cucito, la pittura sacra, la scultura. Ma anche il lavoro nei campi è quello del costruttore di carri, di legno. Sono stati selezionati una serie di mestieri, alcuni dei quali sono in via d'estensione, altri appartengono a nicchie di mercato. Tutti comunque sono accomunati da un'artigianalità, da una manualità e dalla realizzazione proprio di questi pezzi unici che caratterizzano appunto questo allestimento. Lo strumento è la parola. Un breve racconto storico, a cura dell'attrice Mariglia Papaleo, introduce la storia dell'artigiano, che racconta il suo percorso, comune e unico allo stesso tempo, per poi concludersi con un aforisma che racchiude tutto il significato della tradizione. Ci sono degli attori che interpretano, danno voce proprio a quello che sono le parole degli artigiani che vanno proprio a spiegare, a illustrare la realizzazione dei loro pezzi e dei loro manufatti. La mostra, dopo la tappa al Museo del Territorio di Corato, sarà a Turi, nel Chiostro dei Francescani, fino al 23 dicembre.